Passione fatale. Christian Pesavento muore così a 37 anni mentre pratica lo sport che più ama, il kitesurf, di cui è anche istruttore, a metà tra il windsurf e il parapendio. Gelataio attiene, perde la vita in Brasile a Porto Seguro durante un'uscita in mare. Un colpo di vento improvviso, la manovra che non tiene nonostante l'esperienza e in pochi secondi, dopo aver perso il controllo della tavola, è stato colpito al collo dal surf. Poi è ricaduto in acqua. L'autopsia accerterà se il colpo gli è stato fatale o se lo ha stordito e solo successivamente è annegato.